Ariadna Romero ha avuto una crisi di pianto per un comportamento di Jeremias Rodriguez Ecco che cosa è successo all'Isola dei Famosi.Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez fa una battuta di troppo Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez sono tornati dalla notte trascorsa sull'Isla Bonita Carichi e pieni di energia per aver riposato in un letto comodo e mangiato, i due ragazzi si sono dati da fare Hanno preso con loro la nuova arrivata a Ariadna, e sono andati alla ricerca di ricci da poter mangiare Durante l'escursione, tuttavia, qualcosa è andato storto. Il clima di serenità, è stato spezzato da una battuta di Jeremias nei confronti della bella cubana L'argentino le ha chiesto all'improvviso due punti.Vuoi sc o asterisco 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 e punto di domanda.Ariadna è rimasta molto male per questa domanda e Jeremias ha subito chiarito Non sto dicendo con me. Sto chiedendo in generale, se hai voglia.Isola dei famosi.Ariadna piange per una persona importante Le spiegazioni però non sono servite a molto.Ariadna è tornata dagli altri naufraghi, si è seduta sulla macchina del riso, e ha iniziato a piangere Jeremias l'ha raggiunta per chiarire, e la ragazza ha spiegato il perché di quelle lacrime In realtà non se l'è presa con l'argentino, perché ha capito, che era una domanda fatta con ingenuità La sua preoccupazione è nei confronti di una persona che Ariadna sta frequentando, e che per lei è molto importante Secondo lei cose del genere, possono essere fraintese e non vuole creare queste situazioni ambigue Soleil sorge e si arrabbia con Jeremias Rodriguez.Nel frattempo, Soleil si è molto infastidita per quella battuta Immediatamente ha reagito volendo lasciare da soli Jeremias e Ariadna, poi ha insultato il ragazzo, e, infine, ne ha parlato in un confessionale L'ex corteggiatrice di uomini e donne ha ammesso di essere stata totalmente spiazzata da quella battuta a sfondo sessuale nei confronti di Ariadna quando lei, e Jeremias erano appena stati insieme sull'Isla Bonita Soleil ha detto 2.Ho avuto paura, è stata una battuta a sfondo sessuale verso di lei che mi ha spiazzata Soleil è gelosa di Jeremias? Tra i due ormai è evidente che ci sia una storia visto i numerosi baci e la notte passata insieme lontano da tutti La notte passata insieme lontano da tutti i numerosi baci e la notte passata insieme